Parliamo adesso invece del ritorno del Teatro Festival in Campania. Ritorna alla centralità degli spazi teatrali tradizionali e cambia la location all'aperto. La sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio in programma dal 9 giugno al 9 luglio. Realizzata con il sostegno della regione Campania, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, la più imponente rassegna teatrale italiana prende il via con tanti ospiti e sorprese, tra cui lo spettacolo di John Markovic. Un festival importante, sempre con una grande vocazione internazionale, capace di portare a Napoli in Campania grandissimi nomi, nello stesso tempo di rappresentare un riferimento per tutta l'economia dello spettacolo della Campania e anche di valorizzare luoghi del nostro patrimonio artistico. Quest'anno avremo al centro Villa Floridiana, che è un gioiello dell'architettura napoletana.